Quindi la scienza filosofica che chiunque sulla Terra può raggiungere è la schiuma delle cose. La mia scienza non può mai essere adeguata alla realtà. Quindi, senza fermarsi, un filosofo, nel senso letterale del termine, dovrà sapere che deve progredire. Deve umiliare la sua stessa scienza, prima di una realtà. Lasciatemi spiegare. Prendiamo ad esempio una particolare area della filosofia chiamata psicologia, se diciamo per esempio, che le donne sono più attaccate ai bambini piccoli rispetto agli uomini. È vero, detto così. Direi, per verificare se è vero, ho solo un maestro, è il vero. Quindi andrò a vedere il vero, quindi le donne, gli uomini, che sono in definitiva il laboratorio del filosofo e vedrò che è vero, ma non sempre. È vero, diciamo, il più delle volte. Solo perché le mamme portano il bambino, perché si attaccano ad esso visceralmente e forse il papà era solo un po' più esteriore, troverei un numero di casi di persone, mamme, che non lo fanno non hanno attaccamento al bambino che è appena nato e che a volte lo rifiuta. Al contrario, troverei papà che preferirebbero morire piuttosto che vedere, durante un divorzio, i bambini lasciano la casa, in ogni caso, che richiedono diritti di visita equivalenti alla madre. Quindi, se la mia psicologia che ho appena fatto, vuole essere vera e bene si sottometterà alla realtà e dirà questo, abbastanza semplicemente, nella maggior parte dei casi, per calcolare l'esatta percentuale di casi, sarà in grado di usare la statistica, vale a dire il contributo di una scienza moderna chiamata psicologia moderna che la integrerà nello strumento matematico. Aristotele non aveva uno strumento matematico, quindi disse, la maggior parte delle volte nessuna cifra e alla fine era a volte meglio perché le cifre e le grandi indagini sociologiche spesso dicono, a seconda della domanda posta, cosa ci si aspetta dall'inchiesta. Il più delle volte, le donne sono più attaccate ai bambini piccoli rispetto agli uomini, ma non sempre. Vi sono quindi casi in cui è il contrario. Se ciò che dico è coerente con la realtà, allora potrei dire che nella proposizione che ho appena dato, ho raggiunto la verità e questo è l'unico obiettivo. L'obiettivo della filosofia è questa adeguatezza, come ho detto. Quindi, per concludere questa prima lezione, direi che forse alcune persone che hanno fatto la filosofia terminale in Francia, saranno sorprese da questo modo di definire la filosofia. Potrebbero aspettarsi piuttosto lo studio di sistemi, marxismo, freudismo ecc. Spiegherò nella lezione 3 che, in effetti, questo modo di definire la filosofia come la presentazione di una serie degli autori, si chiama piuttosto la storia della filosofia e se si chiama filosofia, per circa 50 anni, è perché è apparso, nella generazione dei filosofi, una specie di errore nel dire che c'era una verità. Dire che esiste una verità, che significava quasi essere intolleranti e quindi evitare questo rischio, politicamente corretto proveniente da una generazione che non supporta più giustamente il fatto che si impongono, nella loro infanzia, verità e che ha preso l'estremo opposto in una crisi adolescenziale dicendo, per evitare di aver imposto una verità, presenteremo un'intera serie di sistemi per dimostrare che in realtà tutto è relativo. Questa è una crisi in filosofia. La filosofia, se fosse stata umile, prima, diciamo nella generazione degli anni 30 e 40, non avrebbe avuto questo contraccolpo. Ma poiché, molto spesso, ci sono più insegnanti di pappagalli, insegnanti che ripetono, ciò che loro stessi hanno letto nei libri di filosofia realistica, rispetto ai veri ricercatori che riscoprono la verità, allo stesso tempo dei loro allievi, ecco perché vi fu una reazione violenta, nella generazione che seguì la guerra. Ritorno con il mio grande maestro in filosofia che si chiamava padre Marie-Dominique Philippe, che è un Domenicano con cui ho studiato filosofia per tre anni e che è stato davvero il mio mentore, il mio allenatore ebbene io ritorna a questo atteggiamento originale di ammirazione per la realtà, che è l'unico maestro. Quindi, ovviamente, perché tenere un corso su internet, questo significa mettere un insegnante, un'autorità davanti alle persone che dovranno ascoltarlo. Bene, questo per dire loro meglio che tutto ciò che viene detto in questi video è come un tutor all'inizio. L'obiettivo è che alla fine ci separiamo dall'insegnante, per avere un solo maestro oltre l'insegnante, il reale. Aristotele aveva già detto in relazione al suo maestro Platone che aveva sentito sciocchezze. Aveva detto, Platone lo amo moltissimo, ma la verità ancora di più. Si era separato dal suo sistema filosofico, per tornare al realista. Grazie. 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 Grazie.